Per capire alcune cose che stanno accadendo in questo momento nell'internet internazionale e nell'internet legato alla Russia in particolare, bisogna conoscere alcune cose, alcune app, alcuni servizi che sono disponibili per quanto riguarda la Russia, perché la Russia ha un proprio ecosistema di servizi web e di app che la rendono molto specifica nelle sue strategie comunicative e nelle strategie sociali. Quindi andiamo a vedere fondamentalmente quali sono le app più utilizzate in Russia e che caratteristiche hanno. Yandex è il sito internet più visitato della Russia ed è quotato sia nella borsa di Mosca che di New York. Appartiene alla categoria dei servizi di search engine, per intenderci i motori di ricerca come Google. Il suo nome deriva da Yet Another Indexer, ovvero ecco un altro indicizzatore, per intendere la categoria dei motori di ricerca. Ha una serie di servizi molto simili a Google, come il cloud, la mail, le mappe, un servizio di notizie, di ricerca di immagini ed un browser che è basato su Chromium, per intenderci la versione open source di Google Chrome. Rutube appartiene alla categoria dei servizi di video sharing, che per intenderci è la stessa categoria di YouTube. Infatti da molti viene considerato lo YouTube russo. Ha un approccio video agli utenti molto simili a YouTube, per quanto riguarda gli user generated content, ma da qualche tempo fornisce anche contenuti editoriali grazie alla sua partnership con Platform e List, che sono social media company russe specializzate nella distribuzione di contenuti e sono appartenenti al gruppo Grazprom Media. Nonché rende disponibili tutte le principali reti televisive russe, disponibili gratuitamente. Odno Klasniki è il social network russo che si colloca come settimo nelle classifiche russe e 56esimo nel mondo. Appartiene alla famiglia di social network site, per intenderci la stessa categoria a cui appartiene Vcontact che è il suo principale competitor. Nasce come sito l'accesso libero, ma nel 2008 diventa con accesso a pagamento, che porta però a una migrazione di tutti i suoi utenti nel suo principale competitor, finché nel 2010 decide di terminare questa caratteristica. Ha servizi particolari tipo l'editing della pagina, un po' come faceva MySpace, il pagamento di servizi attraverso il circuito delle principali carte di credito e le chat video. Nel 2017 il presidente ucraino Petro Poroshenko ha firmato una serie di sanzioni contro le società russe, tra cui Odno Klasniki, e questo ha fatto crollare la popolazione d'età del sito ovviamente in Ucraina. Questi erano solo alcuni dei principali elementi dell'ecosistema russo, delle piattaforme, delle app russe. Seguimi nella parte 2 per diciamo così introdurre e presentarti altre piattaforme, magari qualcuna che conosci già.